25 febbraio 1846 e in corso Vittorio Emanuele vedeva alla luce un astro nascente del mondo dell'arte e della cultura. Un orgoglio tutto barlettano di nome Giuseppe Di Nittis di cui oggi ricorre il 171esimo anniversario. A ricordarlo i giovani studenti della città con la deposizione di una corona di fiori presso la sua abitazione. Con un gruppo di scolaresche siamo venuti a deporre la corona alla sua memoria perché ha dato lustro a nostra città. Ogni anno questo nostro orgoglio aumenta e grazie anche a numerose iniziative nella città a sostegno di una memoria positiva e favolosa che è quella che noi abbiamo. A 23 anni sposa Leonty in Gruvia che Di Nittis ritrarrà spesso nei suoi lavori. Muore a Saint-Germain-en-Laye il 21 agosto 1884 a soli 38 anni struncato da una congestione celebrale lasciando un ricordo straordinario in chi lo conosceva e un immenso patrimonio artistico. Sulla lapide del pittore sepolto al cimitero di Perlaces Alexandru Ma scrisse qui già c'è il pittore Giuseppe Di Nittis morto all'età di 38 anni in piena gioventù, nel pieno dell'amore, nel pieno della gloria, proprio come gli eroi e i semi dei. Con i ragazzi delle scuole, con le associazioni tradizionali, noi festeggiamo oggi i 171 anni della nascita di Peppino De Nitti sul nostro carissimo concittadino che ricordiamo come se fosse nato proprio ieri benché siamo passati appunto 171 anni da quel lontano ma non troppo 25 febbraio 1846 proprio quando in questa casa vide la luce un bambino che era destinato ad un grande futuro per la città di Barletta, per l'arte e per la cultura dell'Italia.